Una notizia ufficializzata anche in anticipo nella Serie A2. Il volley femminile Umbro sarà rappresentato nella prossima stagione anche dalla Bartoccini Gioielleria Perugia fino ad ora la TUM Perugia. La società perugina è stata infatti ripescata ufficialmente dopo aver presentato domanda entro i termini, i tempi e le modalità previste dal regolamento di ammissione ai campionati insieme alla pallavolo Mondovì di Cuneo e alle siciliane del Marzala Volley. Anche nel prossimo campionato dunque sarà possibile assistere ad un derby tutto Umbro tra le Perugine e la Zambelli Orvieto, vincitrice del torneo sul campo.